Cari lettori del Trentino Book Festival, vi aspetto a Caldonazzo alle ore 17 di domenica 17 per la presentazione del mio libro Il Coniglio Hitler e il Cilindro del Demagogo, ricordandovi che nella cabala ebraica il numero 17 significa letteralmente buono E invece alla sera vi aspetto alle 20.30 al Teatro San Sisto per la performance Leggere Dante il coraggio di assumersi il proprio destino con i musicisti Maurizio Deo e Stefano Albarello